Un lavoro a volto scuro ma continuo è quello che negli ultimi due anni ha portato il comitato spontaneo di cittadini di San Giorgio e di Giosomarea a cominciare ad intravedere finalmente i primi risultati per la difesa della costa. L'erosione del litorale infatti è il problema che ha unito la comunità, la quale si sta battendo spesso da sola per difendere la spiaggia come principale risorsa economica per il settore turistico e come baluardo per le stesse case dei residenti. Dopo il consiglio comunale di un anno fa e il tavolo tecnico tenuto presso l'assessorato regionale al territorio d'ambiente a Palermo il comitato non si è arreso alla incapacità dei rappresentanti istituzionali nell'affrontare l'emergenza ed ha deciso di fare da solo. A poco infatti era valsa anche la visita dell'assessore regionale al territorio d'ambiente Mariella Lobello nel luglio del 2013 che era giunta a San Giorgio per rendersi conto direttamente di quanto l'erosione della spiaggia rischi di mettere in ginocchio il territorio. Nonostante gli inviti a concentrarci solo sull'intervento tampone della protezione civile per un importo di 180 mila euro e pronto ad essere realizzato spiega il comitato in una lettera aperta la nostra causa il binario parallelo del completamento del ripascimento ha fatto altri passi non secondari nell'espletamento del leader burocratico dell'accordo di programma stato regione ed ora è al vaglio del ministero dell'ambiente di Roma. Così proprio in un incontro svoltosi ieri a Palermo il comitato ha ottenuto garanzie sul progetto di spesa di circa 220 mila euro per il ripascimento. Il comitato pur prendendo atto dei passi avanti importanti ritiene però che un altro tavolo di confronto tra le parti interessate debba adesso aprirsi per avviare la battaglia della messa in sicurezza del restante tratto di costa.